Carabinieri di Fano, sono il sindaco di Pergola, Francesco Baldelli. Buonasera. Io ho bisogno urgentemente di una pattuglia al punto di primo intervento di Pergola. È partita con una chiamata al 112 la denuncia del sindaco di Pergola, Francesco Baldelli, che sabato notte si è recatto all'ospedale Santi Carlo e Donnino per documentare con una telecamera l'assenza di un medico del 118 nell'ambulanza. Ma c'è di più perché per i tre reparti di medicina, chirurgia, riabilitazione e per i pazienti del punto di primo intervento era presente solo un dottore. E la reazione del primo cittadino non si è fatta attendere, tant'è che ha voluto verificare di persona la situazione, così intorno a mezzanotte ha raggiunto la struttura ospedaliera. Un fatto gravissimo perché in caso di incidente stradale o in caso di una emergenza, ad esempio dovuta da infarto, questa ambulanza non potrà soccorrere con un medico il paziente, il cittadino servito da questo presidio ospedaliero. Dall'Azur comunicano che comunque sarebbero partiti altri medici da altri ospedali. Che cosa risponde? Questo è un fatto gravissimo, questo è un fatto che mette a repentaglio la vita dei nostri concittadini e dei concittadini del nostro territorio. È inutile che poi ci dicano, ma abbiamo una rete dell'emergenza, l'ambulanza parte da un'altra struttura ospedaliera. Ma quanti minuti ci mette ad arrivare a Pergola? E poi da Pergola ad arrivare nel pronto soccorso di riferimento. Questi personaggi stanno distruggendo consapevolmente l'assistenza sanitaria e ospedaliera del nostro territorio. Questo è inaccettabile. Secondo lei questa situazione è una conseguenza della delibera approvata dalla Giunta regionale nel mese di febbraio? La Regione Marche e i suoi dirigenti, proprio con questa delibera, non solo danno avvio ad un ospedale unico che chiude tutti gli altri ospedali e l'assistenza ospedaliera della nostra provincia, ma fanno qualche cosa di più grave. Parlano di un accordo di programma che prevede un partenariato pubblico-privato. Arrivano questi personaggi e ce la stanno distruggendo per fare un favore ai privati. Allora io dico no alla sanità americana, dove si può curare solo il ricco, solo chi ha un'assicurazione. Io vorrei che si potesse curare anche l'agricoltore che fa fatica ad arrivare alla fine del mese, l'operaio che ha perso il posto di lavoro e un giovane che decida di rimanere, anche se fasicosamente, sulla nostra terra. Oggi, io esco da poco dalla conferenza dei sindaci che si è tenuta a Durbino, un manipolo di coraggiosi sindaci ha definito inaccettabile e inammissibile la 141 rispedendola al mittente. Ora mi dico, se i cittadini stanno protestando, se i medici non riescono più a gestire i pazienti perché sono un numero inferiore a quello che dovrebbero essere per garantirci l'assistenza ospedaliere e l'assistenza nei mezzi di soccorso, se i sindacati si lamentano, se i sindaci respingono al mittente le delibere della giunta regionale, qualcuno la mano sulla coscienza, se la vuole mettere in modo particolare il nostro Presidente della Regione, il nostro Assessore alla Sanità e i dirigenti da lui nominati.